Una scienza nascente, perché pur avendo tutte le caratteristiche scientifiche non è stata trattata mai come tale, non è stata mai sviluppata, ma è rimasta bloccata da una metodologia empirica, da un groviglio inestricabile di precetti non razionalizzati, senza motivo, ferrei o di fumosi arabeschi magici. Lo studio dell'astrologia condotto con un vero spirito di ricerca razionale invece ci guida verso scoperte affascinanti e il suo interesse supera di gran lunga la semplice previsione in quanto va oltre, verso le radici di ciò che la rende possibile e iniziamo il cammino in questa direzione risalendo a quello che da millenni è lo strumento guida degli astrologi, lo zodiaco, togliendogli tutti i pregiudizi con cui è stato finora considerato. Lo zodiaco non è un sistema di calcolo astronomico escogitato 6.000 anni fa, perché se così fosse le sue risposte ancora oggi di sconcertante esattezza dovrebbero essere considerate casuali nulla più e le scoperte di Copernico o di Galileo ne avrebbero distrutto da tempo qualsiasi importanza o interesse. Dunque lo zodiaco è qualcosa di diverso, qualcosa che deve risultare accettabile per un'analisi moderna, razionale, se si vuole che l'astrologia progredisca e cadano tutte le ostilità manifestate dalla scienza cosiddetta ufficiale. Il concetto di codice zodiacale che Elisa Morpurgo introduce nella conclusione dell'introduzione all'astrologia può essere e deve essere sviluppato con un percorso che può essere anche semplice per chi se ne intenda poco. Un primo passo da compiere consiste nel sopprimere temporaneamente i simboli grafici che corredono lo zodiaco sostituendoli con semplici numeri. Espediente è anche terapeutico perché aiuta a sgomberare la mente da pregiudizi legati ai simboli, eccetera. In seconda analisi questo permette di ricostruire lo schema zodiacale secondo leggi molto semplici di aritmetica o di geometria da bambini, quindi a livello proprio alimentare, e evidenzia un suo carattere di struttura logica, una sua genesi razionale che non ha nulla a che vedere con ipotesi storiche basate su calendario o su astronomia sumerica. Dunque abbiamo davanti a noi queste due sequenze di dodici, dodici numeri, dodici elementi, ognuna. Per la prima, che chiameremo sequenza planetaria, useremo le cifre arabe, per la seconda, la sequenza dei segni, useremo le cifre romane, quindi pianeti e segni. Vediamole come se fossero disposte in verticale e guardandoci quella, la prima, quella planetaria, e ripiegandola a cerchio, formiamo naturalmente una circonferenza di 360 gradi, dove tutti gli elementi saranno a uguale distanza l'uno dall'altro. Tale distanza sarà di 30 gradi, perché 360 diviso 12 è una quantità. Questo calcolo ci dà subito una spiegazione aritmetica della suddivisione del cerchio zodiacale, in dodici segni di 30 gradi ciascuni, ognuno che sono un po' la croce delizia di chi andava cercando interpretazioni esoteriche o pseudo-razionalistiche, calendario solare, lunare, eccetera. Inoltre serve introdurre il concetto del moto planetario che curva lo spazio, sequenza dei segni, trovandosi una sua sistemazione orbitale. Questa sequenza orbitale è piegata a cerchio e ci consente di analizzare il fatto che questi elementi, che sono i numeri di questa serie, sono disposti in sei gruppi di due numeri paralleli, in ognuno dei gruppi. Questi gruppi si prestano ad osservazione del tipo l'1 e il 12, il 6 e il 7 sono paralleli contigui, mentre gli altri gruppi sono solo paralleli, non essendo contigui. Quindi possiamo chiamare l'1 e il 12 estremi e il 6 e il 7 i loro opposti controestremi. I paralleli invece non contigui saranno chiamati laterali. Queste definizioni ci richiamano alla mente e alla memoria termini analoghi usati in biologia, i biologi che si sono chiamati sullo studio delle catene del DNA e secondo i quali il comportamento degli elementi laterali di una catena è diverso dal comportamento degli estremi. È un richiamo non casuale, ma neanche suggerito dall'assonanza delle parole, perché poi vedremo che nello zodiaco succede la stessa cosa, cioè il comportamento dei pianeti laterali è sempre diverso da quello degli estremi. Ancora analizzando l'immagine, la disposizione dei 12 numeri su 6 linee parallele vede affiancato l'1 al 12, ossia il primo elemento della serie all'ultimo, e poi via via il secondo, il penultimo, il terzo, il terzo, il terzo, eccetera. Un numero disperi si affianca sempre a un numero pari e ciascuna delle due metà verticali del cerchio, se lo immaginiamo diviso da una linea che parte dal punto di demarcazione tra i due estremi e scende dal punto di demarcazione dei due controestremi, contiene esattamente tre disperi e tre pari. Qualcuno potrebbe dire in senso numerologico che qui la somma di ogni gruppo dà sempre 13, ma questo è un entusiasmo esoterico da smorzare subito, perché qualsiasi sequenza che termini con un numero pari piegata a cerchio, come abbiamo fatto qui noi, presenta un allineamento parallelo di cifre la cui somma supera di un'unità il numero totale dato, quindi se pieghiamo a cerchio una sequenza di 18, la somma dei paralleli sarà sempre 19 e così via, se sono 36 sarà sempre 37. Non ci troviamo di fronte a una cosa magica, miracolosa, ma una legge aritmetica. Il concetto invece più interessante che possiamo trarre da questo allineamento è che si affianca sempre un numero basso, esempio il 2, con un numero alto, esempio l'11, che mantiene costante questa somma che è 13. Traducendo le cifre in simboli planetari, diremo che le forze rappresentate da pianeti paralleli tendono a equilibrarsi svolgendo funzioni analoghe. Prima di identificare i numeri della serie con i pianeti veri e propri, occorre spiegare come l'esamor purgo abbia stabilito il conteggio della sequenza planetaria. Il numero uno spetta al sole, come già indicato anche dalla tradizione, ma se accettiamo l'ipotesi sostenuta sin dall'inizio dell'esamor purgo e ormai certezza che la sequenza planetaria comprenda 12 elementi, esattamente come i segni, la sequenza dei segni, è chiaro che l'aggancio della catena piegata a cerchio verrà tra il primo e l'ultimo elemento, cioè all'uno sole leone si aggancerà il 12 cancro luna. Esattamente come il 12 pesci si aggancia l'uno riete. Sono ormai decenni che queste cose sono state analizzate e dimostrate su un piano logico da tutti gli studi morpurghiani, mentre sappiamo che la tradizione aveva enumerato la luna come numero due e andando a finire così in un vicolo cieco, senza significato per tutti i ragionamenti, mentre invece con la luna numero 12 tutte le prospettive affascinanti portate avanti nell'interpretazione del codice esoticale sono state rese possibili. Il numero due invece, che non passa automaticamente al pianeta dopo Mercurio, e la rappresenta come invece l'intera sequenza planetaria venga capovolta. Poiché l'uno sole è l'elemento meno mobile, e qui si tiene conto della sua natura di stella fissa, non del suo moto apparente nello zodiaco, mentre la luna è il più rapido, il più veloce, la sequenza procederà chiaramente dal Sole 1 al più lento, e quindi più esterno, quindi Y, il secondo transplutoniano, fino a raggiungere i più rapidi, concludendosi quindi con Mercurio 11, luna 12. E questa è la corrispondenza planetaria della sequenza di 12 numeri che avevamo visto prima. e come si sistemano questi 12 elementi planetari in una sequenza circolare, e qui abbiamo raffigurati relativi simboli, e qui possiamo anche vedere che l'analisi delle funzioni analoghe, simboleggiate dai pianeti paralleli, risulta più facile se partiamo dai laterali, quindi dai paralleli non contigui, non gli estremi e non i controestremi. il cui esame va lasciato un attimo in sospeso in quanto più complesso. Questa analisi permetterà di gettare un primo sguardo sull'affascinante meccanismo della simbologia zodiacale che riesce a stabilire raccordi molto precisi tra fenomeni cosmici e funzioni anatomiche caratteriali. Se prendiamo dunque la prima linea di paralleli non contigui costituita da 2 e da 11, che corrispondono a Y e Mercurio, noi sappiamo che Y, come chi ha affrontato l'astrologia morpuliana, corrisponde alla formazione dell'atmosfera, ossia la prima tappa che consentì lo sviluppo della vita sulla Terra. Per estensione coinvolge tutti i fenomeni atmosferici ed è certamente responsabile dello scatenarsi di tempeste e tifoni. Alcuni avevano denominato come vulcano, un ipotetico pianeta appunto identificato per ora come Y, mentre invece Lisa Morpurga aveva proprio accostato con il nome Eolo, il sereno e volubile Dio dei venti, questo corpo planetario. Qual è l'organo del nostro corpo che ci consente di ispirare l'aria necessaria all'ossigenazione i polmoni e la corrispondenza Y-polmoni risultò sempre in base agli studi del tempo condotti da Lisa e dai suoi allievi lampante. La tradizione attribuiva già ai gemelli un legame con i polmoni e si vedono gli affreschi del Palazzo Schifanoia di Ferrara, molto importanti per chi decifra lo zodiaco. Nel pannello dedicato ai gemelli appaiono suonatori di strumenti a fiato. La presenza di Y in gemelli sarà meglio evidenziata in seguito quando parlerò della catena raddoppiata, non semplice, come la stiamo esaminando. Limitiamoci a segnalare che la funzione analoga svolta da Mercurio 11 che corrisponde ai bronchi e che con questa accoppiata, questi due organi, polmoni e bronchi, viene assicurata la funzione respiratoria del corpo umano. Questa funzione, sappiamo tutti, è ritmica, si ricollega allo scorrere del tempo, quello scandile di millenni, secoli, anni, minuti, che è segnato appunto dalla primordiale formazione dell'atmosfera, quindi Y, e che è destinato ad accelerare fino ad aggiungere i ritmi rapidissimi di Mercurio, perché Y è il tempo lento mentre Mercurio è il tempo rapido. La loro prossimità agli estremi vitali, Sole, Luna, da cui tutto ha inizio, corrisponde alla priorità della funzione respiratoria. Il neonato, come sappiamo, deve imparare a respirare e non lo ha mai fatto nel ventre materno nel giro di una trentina di secondi. L'immissione della vita sulla Terra, ossia la formazione dell'atmosfera, corrisponde all'immissione della vita, respirazione, in ogni creatura che venga alla luce. L'ordine di successione indicato dai simboli è ovviamente rispettato. Siccome non conosciamo ancora ufficialmente l'orbita di questo pianeta Y, ci sono le diverse sfumature interpretative che ci verranno sperimentandolo con le sue varie posizioni nei temi natali, per ora sono solamente ipotizzabili appunto. Molto probabile che questo pianeta influenzi, come è stato detto, i polmoni, i fenomeni atmosferici, quindi passione per la navigazione, per la vela, per la spinta del vento, oppure il timore per questo tipo di navigazione, la predilizione per gli strumenti a fiato, il suo contrario, la capacità di apprezzare le intemperie, che è una caratteristica d'altronde dei navigatori a vela, o le correnti d'aria, oppure l'orrore delle medesime. Sebbene di scarso valore l'apparenza, queste manifestazioni si ricollegano spesso a una caratterologia ben precisa, implicano un'accettazione a un rifiuto dell'atmosfera in cui la vita ci immerge, sia nel suo significato di fenomeni naturali e stagionali e quindi di un certo ritmo ciclico, sia nel suo significato di tempo che scorre e che può essere affrontato con disimpoltura o temuto con pavidità. La simbologia di Mercurio è molto ricca, poi la vedremo quando l'esame della catena planetaria raddoppiata ci consentirà ampie prospettive di esame. Però intanto tenete presente l'importanza di questo pianeta Y.